Non mi sembra che noi stiamo modificando un modello che funzioni perfettamente. Noi non stiamo sfasciando nulla, anche se questa è la rappresentazione che le critiche vogliono dare. Così il ministro per le politiche europee, Raffaele Fitto, alla Camera sul PNRR. Abbiamo invece l'ambizione di migliorare profondamente qualcosa che deve funzionare molto meglio. Diremo quali interventi sono irrealizzabili e ne spiegheremo le ragioni, confermando la disponibilità del governo, se necessario, ad aprire un tavolo di confronto sul tema in Parlamento.